Un saluto dall'ATG della mobilità in centro, sino alle 19 c'è via libera, alcune strade sono pedonalizzate in tutto o in parte per lasciare spazio ad un anello di 15 km riservato a pedoni e ciclisti. Tra le strade interessate, via del Corso, via di San Gregorio, viale delle Terme di Caracalla, via Veneto e via 20 Settembre, via Labicana e via Le Manzoni, via Tiburtina a San Lorenzo e via Cola di Rienzo, chiusure anche su via Piantica e via di Porta a San Sebastiano, temporanea deviazione per 24 linee di bus. Le altre notizie, intervento urgente di riparazione della rete idrica della Panoramica, Panoramica quindi che da domani sarà chiusa sulla carreggiata a scendere direzione Piazzale Clodio. Maggiori dettagli su romamobilita.it